Cornice spettacolare per la Guardia di Finanza di Varese. Per la prima volta la Festa delle Fiamme Gialle, giunte al loro 245esimo anniversario, si è svolta nella nuova sede di Via Pasubio, una villa di straordinaria bellezza e di invidiabile imponenza, riadattata per garantire funzionalità, spazi e adeguate tecnologie alle donne e agli uomini del corpo. Notevole la rosa di servizi che vede in prima linea la finanza in un territorio eterogeneo come il Varesotto, caratterizzato da aree di confine, aeroporto, zone montuose e poco frequentate, così come centri urbani decisamente congestionati. Tra i numeri più significativi dell'ultimo anno di attività spiccano i 119 milioni di euro sequestrati per frodi fiscali, i 159 evasori totali arrestati, le 353 persone denunciate per corruzione, 840 chili di droga sequestrati, in particolare a Malpensa, senza dimenticare i cosiddetti furbetti del ticket, con una ghiacciante media dell'82% di persone controllate che hanno usufruito di cure mediche gratuite senza averne alcun titolo. Non sfuggono poi altre tipologie di traffico come quello di valuta, 59 milioni di euro movimentati e oltre un milione sequestrato, o quello di tabacco lavorato all'estero, 6.400 chili. Attività diversificate che mantengono intatta la priorità delle fiamme gialle, cioè la difesa della pubblica amministrazione e dell'impresa onesta. Quest'indagine sulla corruzione ne è la testimonianza, sono servizi che sono sempre stati fatti, ma nonostante continuiamo anche nelle attività di controllo e le verifiche, nei confronti dei evasori totali, nelle indagini più complesse sulle frodi IVA, sulle frodi Carosello, sui falsi crediti IVA e comunque per consentire che le risorse pubbliche possano essere impiegate nel migliore dei modi per le nostre future generazioni. Nelle scorse settimane il Comando Provinciale ha fatto parlare di sé in tutta Italia, visto il ruolo centrale giocato dai suoi investigatori nell'inchiesta a mensa dei poveri. Ma all'orizzonte, come conferma di vertici della Procura, c'è un'altra operazione di grande spessore, conferma del valore aggiunto di una forza capace di leggere e decifrare documenti contabili volutamente arzigogolati. Dottoressa, qual è la peculiarità della Guardia di Finanza nel rapporto con la Procura? La peculiarità che mi viene in mente immediatamente è la professionalità, in particolare con la Guardia di Finanza di Varese abbiamo avuto in questi anni un rapporto straordinario, sono estremamente preparati, disponibili e riusciamo a fare indagini, devo dire, bellissime. Quello che mi preme dire è che la Guardia di Finanza di Varese adesso ha iniziato con grande professionalità ad aiutare a seguire la Procura anche in indagini del tutto diverse, ma che richiedono comunque una specializzazione per ricostruire i flussi di denaro e per esempio nei casi di circonvenzione di incapace o la vicenda delle badanti, cosiddetta quell'associazione a delincole, che sono importanti perché dimostrano che la Guardia di Finanza di Varese è presente anche in quelle indagini che forse non sono proprio tipiche, ma che comunque dove la loro professionalità comunque è indispensabile.